La composizione della giunta di Sant'Egide del Monte Albino finisce sul tavolo del prefetto di Salerno. I consiglieri di minoranza, Luigi Nocera, Mario Cascone, Anna Piastrianese e Francesco Marrazzo, hanno inviato un esposto in prefettura al Ministero per le pare opportunità per segnalare il mancato rispetto della legge del Rio da parte del sindaco Nunzio Carpentieri. La giunta nominata, si legge nell'ammissiva, non rispetta i dettami della normativa, visto che oltre al sindaco sono stati nominati tre uomini ed una sola donna. La legge impone una composizione dell'esecutivo che tenga conto della parità di genere e quindi nel caso di Sant'Egidio oltre al sindaco due uomini e due donne. Avevamo posto già durante il primo consiglio comunale unitamente agli altri consiglieri di opposizione questa problematica, è una problematica seria, riguarda il non rispetto della legge del Rio, rispetto alle quote rosa in giunta e quindi ci sembrava opportuno preparare quest'atto che è stato formalizzato nei giorni scorsi a firma dei consiglieri di minoranza al prefetto, il quale prefetto dovrà darci una risposta entro il 10-12 settembre. Se non ci sarà questa risposta saremo pronti a ricorrere al TAR, come è stato fatto in tutti gli altri comuni d'Italia dove non è avvenuto questo. Durante il primo consiglio comunale, in maniera formale, in maniera corretta, è stato posto questo problema a Carpentieri e alla sua giunta. Lui ha giustificato dicendo che aveva degli assessori che avevano competenze specifiche in materia per fare quel tipo di ruolo, per ricoprire quel tipo di ruolo e quindi ha ritenuto opportuno andare avanti. Io credo che tutti gli elementi e tutte le persone valide che vogliono dare un contributo valido al comune di Sant'Egidio siano bene accette. Purtroppo, o meglio, c'è questa legge da rispettare, noi dobbiamo essere i primi a far rispettare la norma essendo amministratori di un comune, quindi credo opportuno che ci sia la necessità di ristabilire la norma anche al comune di Sant'Egidio.